3 novembre, oggi parliamo di un santo tra i più simpatici che io abbia conosciuto e la cui storia si è raccontata ai bambini, gli entusiasma particolarmente. Sto parlando di San Martino de Porres, un santo sudamericano nato a Lima, capitale allora del viceimpero delle Americhe, tenuto dalla Spagna e attualmente capitale del Perù, dove si conserva il suo corpo, dove si custodiscono con tanto amore e venerazione le sue reliquie venerabili. Ha una caratteristica San Martino de Porres, cioè quello di essere un mulatto. Il padre era un nobile spagnolo emigrato nelle Americhe. La madre è una povera schiava negra, come si diceva allora, per cui il padre non volle sposare la madre di Martino e oltre a lui ebbe anche una sorella, Giovanna Quana e in seguito quest'uomo che era molto potente divenne addirittura vicere del Panama e questo naturalmente lo portò poi a legittimare i figli, ma intanto Martino era cresciuto prima in una grande povertà e in una grande indigenza. Poi da Lima si era trasferito in una città della costa dell'America, la costa naturalmente Pacifica, dell'Oceano Pacifico e qui aveva imparato a fare il calzolaio, a fare il chirurgo e anche il barbiere, perché allora il ceruseo, cerusico anche in latino, era al tempo stesso barbiere e chirurgo. Cavava anche i denti, se c'era qualche cosa, qualche piccola operazione da fare, naturalmente senza anestesia, la faceva pure. Lui aveva però un grande amore per Gesù e quindi chiede ai dominicani, della città di Lima, che erano un convento molto fiorente, di circa 60 tra padri e fratelli laici, chiede di far parte dell'ordine dominicano, l'ordine del rosario, l'ordine dei predicatori, l'ordine di San Domenico di Guzman, gloriosissimo e addetto soprattutto alla teologia e alla predicazione. Tuttavia, in un primo tempo, proprio perché era figlio di padre ignoto, almeno ufficialmente, non venne accolto come frate, ma come terziario. In seguito però ci si accorse del grande tesoro spirituale di cui il convento era entrato in possesso. Perché attorno a questo frate, detto Martino della Carità, a motivo della sua sempre aperta disponibilità verso le necessità e le richieste dei fratelli, ebbene attorno a lui c'era un'aura misteriosa, mistica, di miracolo. Molte volte in preghiera, soprattutto davanti a un crocifisso, si levava in estasi e si sollevava da terra, era la levitazione. Veniva visto in più luoghi contemporaneamente. Molti malati per la sua preghiera guarivano. Una luce strana, straordinaria, miracolosa emanava dal suo volto, soprattutto nei momenti di preghiera. E quello che impressionava soprattutto i bambini già allora, ma anche adesso quando si racconta la sua storia, è il suo rapporto con gli animali. C'era un cane nel convento che aveva fatto sempre la buona guardia e aveva fatto il suo dovere. A un certo punto, essendo malato e pieno di ferite, un monaco a quei tempi aveva creduto bene di finirlo e di buttarlo in un fosso. Lui si dispiace, lo benedice e il cane risuscita. Ma è famoso anche l'episodio dei topi, un periodo affollavano il convento, mangiavano tutto, nella dispensa e nel guardaroba. E allora egli che fa? Li chiama, li raduna davanti a sé e promette loro di sfamarli dopo pranzo, però a patto che se ne andassero dal convento. E quindi in fila tutti i topi cominciarono ad abbandonare il convento. Possiamo immaginare la grande impressione che questi fatti facevano. Un'altra volta fece mangiare nella stessa scodella un cane, un gatto e un topo, raccomandando loro, prontamente obbedito, che non litigassero tra di loro. Martino de Porres ebbe, come detto, una grande carità verso i confratelli quando scoppiò una pandemia in tutta la città di Lima, tutti e 60 i confratelli dominicani caddero malati eccetto lui e lui curò tutti e nessuno morì all'interno del convento. Insomma, un santo mulatto che compie miracoli non solo durante la sua vita, ma anche dopo la sua morte, difatti è considerato un grande taumaturgo. Non solo in America Latina, ma anche in Africa, in Angola, addirittura esiste una congregazione religiosa ispirata alla sua spiritualità. Egli era nato nel 1579 e muore nel 1639 e, avendo il dono della scienza infusa, anche principi e cardinali e vescovi, alti prelati, gente di ogni condizione, eccetto si recava da lui per chiedere consiglio e per ottenere il supporto potente delle sue preghiere. San Martino de Porres, santo semplice, santo mulatto, santo dei poveri, santo delle periferie del mondo, Martin della Caridad, prega per noi.